Sposi Magazine 2018 Sposi Magazine 2018 Sposi Magazine 2018 Sposi Magazine 2018 e noi ne siamo davvero molto contenti. Tra le novità che mi preme sottolinearvi è anche la presenza delle rubriche degli esperti. Quest'anno, infatti, esperti professionisti del settore del wedding a svariato titolo vi consigliano, scrivono di loro pugno e vi consigliano come comportarvi, per esempio, nella scelta dell'outfit per le damigelle della sposa, oppure sul galateo e il bonton a tavola nel giorno delle nozze, in verità poi sempre nella vita, o ancora si parla di destination wedding e così via discorrendo, addirittura anche quali domande fare quando andate a scegliere la location dove celebrare il vostro matrimonio. Tra le altre novità, vi sottolineo, è la presenza dei QR code. Qui e là, sparsi nella rivista, troverete questi codici che vi basta scannerizzare con il cellulare e vi porteranno ad altri ulteriori contenuti, contenuti che si sviluppano sul web, perché a noi preme moltissimo fare sinergia e fare in modo che ci sia una continuità tra il web e quindi la carta stampata. E in questo senso, proprio nell'ottica sempre di interazione continua con chi ci legge, con chi ci segue, con chi opera in questo settore del matrimonio, abbiamo anche voluto, in questo 2018, parlare con e della gente. Il modifo per cui pubblichiamo le foto, le 20 foto di altrettante coppie che noi reputiamo essere le più belle d'Italia, che hanno partecipato al photo contest che abbiamo lanciato su internet, sui social, come di Facebook o di Instagram. Abbiamo scelto appunto i 20 più belli dei tanti che ci sono arrivati, che pubblicheremo comunque poi, in seconda battuta, anche sul web in maniera integrale. E appunto le loro foto, le 20 più belle, sono finite sulla rivista. Insieme a questa, accanto a questa, anche 5 foto un po' particolari, che sono quelle di 5 proposte di matrimonio, che ci sono piaciute particolarmente. Abbiamo contattato appunto chi ha realizzato gli scatti, chi ha avuto un'idea abbastanza geniale per chiedere la mano della propria lei e raccontiamo così anche le loro storie. Naturalmente Sposi Magazine, come da tradizione, come da consueto e come giusto che sia, soprattutto, dà grandissimo spazio alla moda. La moda sposa e sposo. Gli abiti sono grandi protagonisti, protagonisti di due sezioni, che si dividono sostanzialmente, vi permettono di visionare quelle che sono le ultime collezioni, quindi quelle targate 2018, sia a livello nazionale che internazionale, seguendo due possibilità. Da un lato i trend di stagione, dall'altro lato proprio le Maison, perché abbiamo delle lunghe carrellate fotografiche sulle diverse collezioni che sono state realizzate. rispetto ai trend, per quanto riguarda la donna, ne abbiamo individuate 15, trend che arrivano un po' dopo aver girato tutto l'anno tra Barcellona, Milano, Londra, quindi aver partecipato alle principali settimane della moda sposa, quindi abbiamo scelto 15 modelli, 15 dettagli, elementi, che secondo noi sono quelli appunto portanti di stagione. Penso ad esempio allo scollo a V, che tra l'altro è protagonista anche della copertina di Sposi Magazine, oppure alle maniche a puff, c'è questo grande ritorno alla manica, ma soprattutto la manica a palloncino. E ancora i tessuti, si va oltre il pizzo, il micado di seta, la seta, che restano comunque dei tessuti protagonisti, e si approda a dei tessuti sparkling lucenti. Dunque la sposa diventa un po' diva, scintilla se vogliamo. E tra le tante sorprese di quest'anno, ne abbiamo una più dolce delle altre, è il caso di dire. Infatti è stato lo chef e maître cioccolatier Ernest Knum a realizzare una linea di torte inuziali proprio per noi di Sposi Magazine. Nel video, quello speciale, proprio su quel dei due giorni che abbiamo trascorso il laboratorio con lui, in Via Anfossi, dove tiene la pasticceria, presto sarà online e lo potrete vedere tutti. L'ho intervistato proprio mentre realizzava una delle sue torte. Nello stesso tempo però in rivista abbiamo tutte le fotografie con le descrizioni di queste. Torte pensate per matrimoni più piccoli, così come per matrimoni da tantissimi invitati, che sia secondo la monoporzione tanto cara allo chef o le naked cake che tanto vanno nell'ultimo periodo. Da una cosa all'altra, diciamo così, altro elemento colonna portante di Sposi Magazine resta senza dubbio tutta la parte dedicata all'organizzazione del matrimonio. E allora in questo senso torna naturalmente l'appuntamento con il Real Wedding, dunque i matrimoni che raccontiamo attraverso foto, immagini, parole, organizzate da quelli che noi riputiamo essere alcuni dei migliori wedding planner italiani, sicuramente nell'Olimpo dei migliori organizzatori di matrimoni in Italia. Contestualmente però abbiamo fatto un passo oltre e allora ci siamo divertiti perché probabilmente nessuno riflette mai come è il matrimonio quando a sposarsi è un wedding planner. E allora otto organizzatrici di matrimonio amiche di Sposi Magazine ci hanno fornito, ci hanno aperto il loro album dei ricordi e ci hanno regalato le loro immagini in abito da sposa per cui sono tutte da sfogliare e da scoprire all'interno della rivista. Sempre sul fronte dell'organizzazione abbiamo anche scelto cinque colori che secondo noi sono cinque colori trend per il 2018 sulla base dei quali allestire il matrimonio. E nello stesso tempo abbiamo fatto cosa simile con gli abiti, scelto qualche abito particolare per la sua fattura, per il suo stile, per i suoi tagli e da lì come dire ricreato tutto quello che potrebbe essere l'allestimento per il matrimonio. E ancora le idee di stile e così via discorrendo. Cioè tutto quanto per noi è possibile, abbiamo voluto darvi quanto possibile per avere delle idee e riuscire ad organizzare il matrimonio con dei dettagli piccoli ma che fanno la differenza e che non ci vogliono neanche cifre capitali, insomma chissà quali capitali per poter riportare nelle proprie nozze. Se devo definire, dovessi definire la Sposi Magazine 2018 mi piace definirla una rivista preziosa. Preziosa perché è stata pensata, come avete un po' capito, da un lato per le future spose, per le coppie che si accingono all'altare, dall'altro lato per gli operatori di settore. Infatti quello che noi vogliamo fare da un lato è ispirare, dare la possibilità di trovare ispirazione, poter copiare, diciamo così passatemi il termine, qualcosa di vista e riproporla nel proprio matrimonio. Ma dall'altro lato vogliamo anche che la rivista diventi uno spunto di dibattito, un momento di confronto sostanzialmente tra chi lavora nel settore del wedding e non solo. Infatti tra l'altro, e questo si inserisce con una piccola novità di Sposi Magazine, quest'anno strizziamo spesso l'occhio all'attualità, ciò significa che parliamo di argomenti importanti come per esempio le seconde nozze che sono un trend sempre più in crescita in Italia, oppure definiamo l'identikit dei millennials di un matrimonio di questa tipologia, o ancora parliamo di destination wedding con numeri, dati stati alla mano, insomma cerchiamo di essere anche presenti su ciò che è oggi, su ciò che accade, cerchiamo di stare sul pezzo, si dice in gergo giornalistico, perché quello che vogliamo è puntare i riflettori e l'attenzione sulle esigenze di settore. Il comparto del wedding infatti ha bisogno di essere messo sotto attenzione, ha bisogno di essere spinto, ha bisogno di gruppi di professionisti che si mettono insieme, che facciano nel vero senso della parola e quindi letteralmente facciano rete, una rete di eccellenze di cui noi a Sposi Magazine cerchiamo di essere fautori e promotori, come raccontando, presenziando, facendo partnership a tutti quegli eventi, a quelle manifestazioni che sono organizzati da appunto diversi operatori, colleghi o chi che sia, ma che servono per far crescere e dare una luce nuova e migliore al comparto del wedding, perché va da sé che se siamo insieme e spingiamo tutti verso la stessa direzione, il comparto cresce, se il comparto cresce a pioggia ne possiamo beneficiare tutti inevitabilmente. E ovviamente il settore del matrimonio tra l'altro non va sottovalutato, è sicuramente, può diventare il volano per l'economia di un paese, pensiamo a tutto quello che gira e gravita intorno al destination wedding, con numeri che quotano gli incassi tra indotto e diretti dei matrimoni degli stralieri in Italia, celebrati solo nel 2015, pari a 380 milioni di euro, quindi non è poca roba diciamo così. E allora, proprio parlando di destination wedding, un focus è presente all'interno della rivista, per cui troverete un po' di numeri, un po' di idee anche, e dall'altro lato, volendo proprio spingere ancora una volta e sempre di più il prodotto Italia, il Made in Italy, abbiamo deciso di raccontarvi alcune delle dimore storiche più belle d'Italia, in un viaggio che va da nord a sud, attraverso questi castelli, questi dimore antiche, intrise proprio di storia, di bellezza, di architettura e di arte. Ve le raccontiamo e sono tutti luoghi, tra l'altro, in cui poter celebrare il vostro giorno del matrimonio, a volte direttamente con la cerimonia, a volte semplicemente con l'aspetto, diciamo, più ludico della festa. Sposi Magazine, naturalmente, mi accingo a concludere, Sposi Magazine si compone come di sette sezioni, tra queste abbiamo anche i viaggi e la casa. Per quanto riguarda i viaggi, quest'anno abbiamo deciso di farci ispirare dai sensi, una meta per ognuno dei sensi, dovrete soltanto scegliere a quale senso affidarvi e quindi trovare il vostro itinerario di viaggio. Allo stesso modo abbiamo poi una piccola incursione in quelle che abbiamo definito le sweet dreams, ossia le sweet da sogno vista mare, peraltro di resort meravigliosi che appartengono al circuito dell'Axory Lab. Infine c'è la casa, la casa perché l'arredamento, il design, diciamo, mettere su casa è forse uno dei momenti più importanti per la coppia. Anche lì allora vi accompagniamo dal living sino all'outdoor, passando per la cucina, il bagno, trapezzi immancabili, idee di stile, veri e propri stili di arredamento, dunque una casa secondo un millennial, piuttosto secondo un Iggy o in stile bohemian, insomma avete soltanto l'imbarazzo della scelta e cercare di capire cosa è più vicino alle vostre corde. Io sono giunta praticamente al termine di questo video, vi ricordo che Sposi Magazine 2018 sarà in distribuzione a partire dal 16 di ottobre, potete però già prenotare la vostra copia della rivista, sia essa cartacea o in formato digitale attraverso il nostro sito sposimagazine.it E allora ci vediamo presto!